Il sindaco si aspetta delle scuse da Dolce Gabbana? No, per me la questione è assolutamente terminata, è finita, loro hanno riaperto i negozi. Spero adesso che finiscano le polemiche e si guardi in avanti nell'interesse della città, nell'interesse della moda, nell'interesse della collettività e del paese. Voglio anche dire che io ho già invitato attraverso il direttore generale di Dolce Gabbana i due interessati, il Dolce e il Gabbana, di venire qua per parlarci e chiarirci. Basta polemiche. Perché lei dice che gli indignati siete voi, sindaco? Perché credo che chi dice che Milano fa schifo non può che fare indignare non solo il sindaco di Milano, ma tutti i milanesi. Lei dice che si aspettava delle scuse, però non sono arrivate, sindaco. È un po' offeso che non siano arrivate. Ho detto che le ho invitate a venire qua per chiarirci le idee. E loro hanno risposto? Ma così non si rischia di dare un'altra vetrina?